All'inizio della settimana il maltempo concederà una parziale tregua al nord mentre interesserà soprattutto il centro-sud delle due isole maggiori. In particolare lunedì 20 gennaio, come ci mostra l'immagine del satellite virtuale, un po' di nuvolosità insisterà al nord ma quella più compatta si concentrerà al centro e in Sardegna. Dalla previsione infatti vediamo molte nuvole al centro-nord e in Sardegna, con le ultime precipitazioni al nord-est, piogge più diffuse invece sulle regioni centrali tirreniche, zone interne del centro, Campania e Sardegna. Non mancheranno le schierite invece nel resto del sud. Le temperature saranno in calo nelle zone più interessate dal maltempo, ovvero al centro in Sardegna, dove le massime resteranno comprese tra 10 e 14 gradi, in leggero aumento al nord con massime comprese tra 5 e 12 gradi, ancora miti al sud in Sicilia, dove toccheremo ancora punte di 17-18 gradi. Poi in martedì la perturbazione numero 6 si sposterà al sud in Sicilia, mentre nel resto dell'Italia avremo un temporaneo miglioramento del tempo, in attesa di una nuova perturbazione atlantica che raggiungerà il centro-nord già nella giornata di mercoledì. Sapremo darvi maggiori dettagli su questa tendenza nelle prossime edizioni. Vi invito quindi a seguirci sempre sul nostro sito meteogiuliacci.it